E dunque finisce con un perentorio 12 a 0 per la Juventus Women, la semifinale del torneo preliminare 8 per entrare in UEFA Champions League ed è la prima partita vinta ufficiale della stagione, nonché questa è la prima vittoria in assoluto della Juventus nella Women's Champions League. Non era mai successo, stiamo entrando nel quinto anno di storia e non era mai successo nella storia che la Juventus vincesse una partita in Champions perché la Juve parigiò e perse col Brunby, perse tutti e due col Barcellona e perse tutti e due con il Lione. E' un dominio davvero pazzesco nel senso che il Kamenikassass a squadra della Macedonia del Nord è crollata nel secondo tempo perché poi non è riuscita proprio più a star dietro la Juve. Nel primo ha difeso bene, cercava di difendersi bene e devo essere sincero, sembrava che la Juve giocasse a due velocità superiori e questa è la cosa che mi lascia più contento, cioè la velocità del gioco. Un gioco che è completamente diverso e Montemurro è stato abile secondo me a cambiare non il modulo ma semplicemente cambiare i difensori, cioè passare da 3 a 4. E niente, da lì poi è andato via tutto a posto insomma perché poi loro non sono riusciti mai a tirare in porta quindi noi qua potevamo giocare con anche il corri portiere dell'Under 17 e non ci sarebbero stati problemi. Poi siamo partiti fortissimi perché subito doppietta di Caruso, poi il gol di Rosucci e poi nel secondo tempo abbiamo visto la Juve prendere pian piano il largo con la tripletta di Caruso, doppietta di Girelli, il gol di Bonansea, il gol di Zamanian, il gol di Bonfantini, insomma tanti gol, 12 in totali, non credo che ci sia tripletta di Stasco, insomma non credo che ci sia stato poi molto da dire, la Juve ha dominato la partita. Ma ripeto, fino a un certo punto il Kamenica stava difendendosi bene, cioè la Juve semplicemente ha giocato meglio di loro e li ha messi in una difficoltà incredibile. Ora, sabato sera, ci sarà la finale e sarà una partita già molto più complicata contro la vincita di St. Paulten e Besiktas. Non sarà una partita facile, sarà una partita un po' più di livello alto e quindi staremo a vedere insomma la partita, secondo me, già è una buona, un buon banco di prova ecco. Diciamo che non ero d'accordo con molte critiche che sono state mosse dopo le partite perse con il Pomigliano e con il Barcellona perché semplicemente al di là della forza del Barcellona è una squadra che stava facendo semplicemente degli allenamenti per provare e la differenza sostanziale è che il Barcellona sia forte semplicemente e il Pomigliano invece avesse più voglia di vincere un amichevole della Juve. Ma anche sulla partita del Pomigliano io ho la mia idea che se Rosucci, scusate, se Girelli avesse segnato il calcio di rigore probabilmente stavamo parlando di una vittoria anche lì. Quindi per quello che vale è meglio perdere quelle e vincere queste. Ci ha permesso questo largo risultato di fare anche dei cambi per girare un po', questo è molto positivo perché avremmo a girare ragazze un pochino più fresche sabato. E adesso sabato staremo a vedere perché la partita mi, come posso dire, mi incuriosisce proprio come banco di prova ecco. Comunque era importante partire bene ed era fondamentale vincere questa, l'abbiamo vinta alla grandissima con un perentorio appunto 12-0. Complimenti alle ragazze, complimenti a Mister Montemuro perché avesse preso tanto fango, secondo me, immeritatamente per della preparazione. Come ha detto Braghin, che credo che di calcio femminile ne capisca, visto che è il dirigente che ha portato la Juventus sul tetto d'Italia da 4 anni. E siamo ancora, secondo me, una spanna sopra a livello di organizzazione societaria femminile. E secondo me siamo ancora la spanna da battere. E Braghin ha detto se dobbiamo giudicare un lavoro triennale sulla base di due amichevoli siamo messi male. E effettivamente qualche tifoso probabilmente è messo male. E quindi c'è messo male proprio come approccio alle partite perché c'è sempre tante tante critiche, se non è meritate. Si porta a casa il pallone Arianna Caruso, si porta a casa il pallone Stascova. E niente, credo che tra l'altro per Caruso sia la prima tripletta in assoluto in carriera. Insomma, storica, come ho detto, visto che la Juventus con questa vittoria vince la sua... Passa in finale sabato e vince la sua prima partita in assoluto, la Champions League. Che non è poco perché aspettavamo questo momento da un bel po' di tempo. Fino alla fine forza Juventus Women e Montemurro, possiamo dire che ha già fatto il miglior risultato europeo della storia della Juventus Women. Passando già un turno, cosa che non era mai successa. Chiaramente le cose molto diverse. Ecco, mi ha fatto molto piacere che è tornata Pedersen. E quindi niente. Ragazzi, io vi saluto. Miglior in campo, secondo me, Caruso. Perché al di là dei tre gol ha dominato e ha avuto tantissime palle gol. Ne ha sprecate anche tante. È stata ovunque e per me è la migliore in campo. Fino alla fine forza Juventus Women. Ci sentiamo per sabato con le women. E niente, domani video post Juve Juventus 23 ovviamente. Fino alla fine forza Juventus Women ragazzi. Abbiamo vinto la prima partita in Champions. Ora c'è il turno più difficile che vale l'accesso ai playoff. Ciao a tutti ragazzi.